Grazie a tutti. Sta suonando il pianoforte il mio amico Morris Codenotti. Dice che è Gesù di Fabrizio. E non la trovate, la fa tornare lui al posto. Quando piove nella valle e le foglie sono gialle quando l'acqua si fa neve e il giorno è più breve. E non la trovate, la fa tornare lui al posto. E non la trovate, la fa tornare lui al posto. E non la trovate, la fa tornare loro come stai cominci firmare. Non è bene, sono solo lei Nella inoltre, sono mia è Io non voglio realizzare Si apre il cuore nel finale Non dimenticarti il mio amore 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 Grazie Grazie